Allora, innanzitutto ci scusiamo per le sigarette, ma volevamo ricreare l'atmosfera dei film anni 70 e quindi anche un po' delle ospitate nelle tribune politiche quando si poteva fumare, insomma è studio. C'era Marco Pannella che fumava. Esatto. Mancano 20 minuti all'inizio di quest'anno, queste facce sono quindi entro per 20 minuti le facce di due persone che sono state in vacanza. Un po' risultato tale. C'è tensione? No, c'è la solita serenità che ci contraddistingue, quella di Mr. Ballou, che si mantiene ancora sul trenino nonostante il deragliamento e Cassandra Crossing su cui siamo stati posti. Ecco una panoramica se possibile, Steve, il resto della truppa che quest'anno... No, a me è Betta Farina, la conferma... Era Tagliaferri, Dicom, Dicom e Artosil. Ci parte! Figli spostati!